Siamo qui con Paul Caillard alla Coppa del Re, ventisesima Coppa del Re, dicesima regata. Vediamo un po' le sue impressioni per questo giornale di oggi. Poi st'oggi, purtroppo, abbiamo sbagliato il messo a punto di barca. Milo Taylor ha sbagliato varie manate. L'ultima, i Retriever, non hanno un ring, il cui ho vinciato a bordo, il Dejanica, abbiamo fatto strasci per 7 miglia, abbiamo avuto un po' di problemi. Io ho fatto un atto, io ho fatto un atto, io ho il Taylor, io ho il stick di prune, però lui adesso dice di aver imparato, prossima ammai nata vedremo. Paul, ho visto che la body pop ha anticipato moltissimo la prova, l'ammai nata. Perché? Perché io purtroppo a prua, ho un brodieri scarsi, di gente che ha fatto solo poche Coppa Americana nel 97, troppo poche per essere delucere in appena. Comunque, tutto sommato, sounds good in regatta, tutto bene. Paul, cosa ne pensi? L'equipaggio qui a fianco è molto simpatico, molto bello, ha fatto una regatta, ha scelto tanto. Un attimo, una domanda, una domanda, una domanda su me. Ok, ti vedo, ti vedo, fatti. Una domanda su personale, le serate palmenzi, come sono andate? Eh, purtroppo, lui...